Questa è la sezione contemporanea della piramidella civica con Ola Ioli, è una donazione fatta da Esther Merloni alla cittadinanza e tra le sue opere, tanto che aveva collezionato durante la sua vita, questa, ci sottolineiamo a guardarla insieme, è un'opera di Giacomo Manzun nel 1984, ragazza sdragliata, e si vede ecco come la lavorazione dei metalli, una specialità di questo scultore, era insegnante all'acqua della Tertina, e molte sono le sue opere con le quali ha lavorato chiesi, come se ne avevano fatto tuttare nel mondo. Ecco, anche da qui, qui ha un messaggio, sdragliate a casa, in poltrona, per far passare questi giorni che ci suggeriscono di trasformare in casa.